Hi guys, this is my look of the day! Scusate ragazzi, ho sbagliato il canale! Allora siamo a Padova Gourmet e stasera assaggerò per voi dei tagli di carne di questo locale che è il Flame. Molto saporita, rimane anche un piacevole sapore in bocca dopo averla mangiata, morbida, buona, buona, mi piace, approvata anche questa. Mi hanno portato anche del purè con patate affumicate che sinceramente non ho mai assaggiato, l'odore, cioè si sente proprio la fumicatura quindi vediamo. Buono, molto particolare, merita di essere assaggiato, non è il classico purè. Ora mi hanno portato questo bellissimo taglio di carne, vedo anche che è più rosa, io amo la carne al sangue perché secondo me cuoccerla troppo è rovinarla. Allo stesso tempo è asciutta perché non perde goccioline di sangue. Allora questa è una bavetta, è la pancia del manzo. Mentre il taglio picagna si trova spesso, questo taglio raramente si trova al ristorante, a meno per quello che è la mia esperienza. Qui al Flame l'abbiamo trovato e ha anche un ottimo aspetto. Ora lo assaggiamo, vediamo. Questa me la sto mostrando. Questa è molto morbida, anche succulenta e personalmente preferisco questa rispetto alla picagna. Anche questa viene servita con il purè di patate affumicato che abbiamo appena assaggiato. E ricordatevi ragazzi, come diceva mia nonna, chi va letto senza cena tutta la notte si dimena, quindi andate a mangiare bene.